da vado io da lontano pure ma c'è stato anche un cecchino che ci spara abbastanza vabbè mandatemi a fare in culo ma chi è tutti qua stanno venga per il paracadute e vabbè la madonna questo non c'eva seno imminente quanto pare a questo game non c'eva seno imminente